Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò dove si troveranno le due falene lucenti nel trono mondo di Savatun. Per ottenere la prima falena lucente vi basterà seguire il percorso che effettuerò io nel video e a un certo punto dovrete raggiungere la zona dove si troveranno la magliarda e i nemici. Vi basterà semplicemente solo uccidere i nemici e la magliarda a terra lascerà una falena lucente. Invece per ottenere la seconda falena lucente vi basterà sempre seguire il video e recarvi verso la zona del tempio dell'astuta. Come vedrete dal video ci saranno dei nemici e basterà soltanto ucciderli e dopodiché tranquillamente riuscirete a prendere la falena lucente che si troverà sopra uno dei pilastri. Dopo aver recuperato le due falene lucenti di questa settimana ricordatevi di riscattare l'avanzamento del trionfo l'epidotterologo. E niente ragazzi per questa settimana termina qui il video delle falene lucenti restate sempre aggiornati per altri video qui sul mio canale e ci vedremo la prossima settimana per un altro video sulle falene lucenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.